dopo non ti presento i miei veniamo a un film che invece ho gradito moltissimo che è la terra dei figli regia di claudio cupellini sceneggiatura di claudio cupellini guido yuculano e filippo gramino cast leon della valle paolo pierbon maria roveran fabrizio ferracane maurizio donadoni franco ravera valerio massalandè mastandrea valeria golino e alessandro tedeschi allora parliamo di questo film che come dicevo in introduzione io aspettavo moltissimo che mi ha sorpreso per molti aspetti e che mi ha deluso per altri aspetti non per colpa del film ma perché io ricordo che al box office questo film fece registrare oddio non vorrei sbagliarmi ma circa 60 mila euro 60 mila euro di incasso quindi ha avuto una distribuzione ridicola non ci ha creduto nessuno anche a livello pubblicitario ed è un peccato perché gp non è uno sconosciuto non è un fumettista di nicchia è un fumettista conosciutissimo in italia vince premi in tutto il mondo i suoi fumetti vanno in tutto il mondo lo stesso la terra dei figli è stato rotto in francese inglese è un fumettista di fama internazionale è conosciutissimo ripeto in italia e che un adattamento così ben fatto di un suo film non venga per nulla valorizzato è per me un crimine partiamo da una cosa in italia il post apocalittico parlando di genere mi sono preso due appunti perché alcuni titoli non me li ricordavo non si vede da post fuga da new york perché dopo fuga da new york di john carpenter in italia quando si usava ancora fare molto genere arrivavano i cloni quindi ad esempio questo dovrebbe essere addirittura sono prime video ovvero sergio martino aveva fatto 2019 dopo la caduta di new york credo se sia anche un video di un bel video di sinergo di cose dell'altro cinema riguardo poi c'era anche enzo castellari con 1990 guerrieri del bronx come potete vedere tutti la copertina di la locandina di 1990 è addirittura palesemente uguale a quella di fuga da new york e enzo castella è scusate lucio fulci con i guerrieri dell'anno 2072 il post apocalittico era diventato una wave dopo quel film seminale così incredibile di john carpenter e noi non lo facciamo da allora quindi dagli anni 80 dall 82 84 85 da allora non facciamo questi tipi di film finalmente l'abbiamo fatto e lo abbiamo fatto con molta dignità rispetto a molti altri che fanno post apocalittico lo fanno in modo un po sciatto percorrendo sempre strade già viste molte volte i post apocalittici che a me sono piaciuti sono pochi anche perché il post apocalittico è un genere che ti offre occasione per dipingere un contesto come molti film di genere un po come gli zombie romeriani per scavare in quelle che sono le preoccupazioni di te come autore verso il genere umano ti dà possibilità di scavare in questi temi e generalmente si va a guardare nelle nefandezze che l'essere umano arriverebbe a compiere perché sono nella sua natura in base alla società nel quale al contesto sociale nel quale è cresciuto ora e che l'autore va a estrapolare a mettere in una situazione estremizzata come il post apocalittico per individuare nelle criticità e le follie e amplificare il tutto ma gp quello che fa invece nel suo fumetto e lo chiamo fumetto non lo chiamo graphic novel perché chiamarlo fumetto piuttosto che graphic novel non è un termine sbagliato e non è denigratorio piccola parentesi nel senso che il fumetto è un mezzo e non è inferiore non è che se si dice graphic novel ah no allora allora è elevato non è che non funziona così è un fumetto ed è va bene dire fumetto graphic novel è un termine molto bello che si sia che i fumettisti sono inventati per dare maggiore rilevanza a quello che fanno ma è pur sempre un fumetto e va bene chiamarlo così e gli stessi fumettisti che capiscono il loro mezzo ci tengono a dire è un fumetto molto spesso quando alcuni giornalisti l'intervista no ma chiamarlo fumetto riduttivo no è un fumetto è quello che è il mezzo è quello è un fumetto comunque nel fumetto di gp già alla base quello che mi era piaciuto è che personalmente parlando io ci avevo visto un gp che nel guardare al post apocalittico non lo utilizzava per dire ah ma l'uomo si darà a stupro a violenze inaudite non va nell'idea romeriana del post apocalittico va in una direzione diversa lo sfrutta come contesto per dire nel mondo di oggi gp guardando la società questa è una mia riflessione magari lui se dovesse sentire questa parola potrebbe dire cavolo ma non ci hai preso per niente però quello che ci ho visto io è gp che guarda il nostro mondo e dice se domani finisce il mondo per civilizzato per come lo conosciamo oggi e viene fuori un nuovo mondo l'uomo contrariamente a quello che succede spesso nel post apocalittico nei scenari zombeschi non cerca per quanto in modo nefasto di ricreare una sorta di ordine sociale perché l'uomo personatura cercherà di ridarsi una sorta di ordine ok non arriverà a e non arriverà a farlo attraverso quello che è le sue fondamenta quelle cose che lo identificano come essere umano e come creatura avanzata quindi la scrittura la lettura la cultura in generale o comunque una ricerca di ricostruire quell'avanzamento quella figura di uomo avanzato che si è costruito nel corso del tempo prima di arrivare alla fine perché quando arrivi alla fine capisci cosa è importante e vuoi preservare tutto quello che c'era prima della fine o riscoprirlo l'uomo per gp non farà questo l'uomo cadrà nel barato dimenticherà la lettura la scrittura e creerà uomini che non hanno neanche sono quasi dei gusci perché non hanno l'empatia base non avranno non piangeranno per un morto non capiranno cos'è un cane come si accarezza un cane non avranno determinati meccanismi che l'uomo a che l'evoluzione a e che ci ha portato ad essere più illuminati ma che ci ha portato anche la distruzione perché ci sono determinate declinazioni del nostro animo che ci portano alla follia della nostra natura che ci portano a certi estremizzazioni di follia che in questi scenari portano al post apocalittico gp fa altro e mi piace molto quello che fa che fa e mi aveva fatto innamorare del suo fumetto oltre al fatto che è cinematografico e per questo ero molto curioso della dell'adattamento perché parla molto per immagine sono immagini molto atmosfera molto cinematografiche i panel sono incredibili del racconto di gp nel film questa traduzione che non puoi fare in uno a uno perché se avete letto il fumetto di gp se lo conoscete capisci che tante cose non possono essere tradotte uno a uno non si può alcune forse si poteva ma serviva un'ambizione diversa per certe cose serviva la capacità di poter tradurre determinate cose di renderlo un po più folle come film senza andare nel ridicolo e di renderlo comunque serio sta di fatto che ero curioso di vedere questa trasposizione perché volevo capire ecco anche questa cosa nel fumetto c'è la storia è questa siamo in questo futuro distopico perché giustamente se non vi dico la trama non capirete mai che cos'è siamo in questo futuro distopico no scusate post apocalittico non c'entra niente la distopia post apocalittico nel quale sostanzialmente la società in mano a dei vecchi perché chiunque era bambino nel momento in cui o neonato nel momento in cui è successo quello che è successo è stato ammazzato chiunque era adulto ha deciso che in quel mondo non dovevano vivere e quindi sono stati ammazzati in questo mondo c'è questo ragazzino che uno dei pochi sopravvissuti e suo padre che lo tratta malamente che a un certo punto si ritrova da solo perché il padre muore e gli lascia questo quaderno sul quale lui scriveva ogni sera e lui esce da questa sua zona protetta di comfort dove a loro non può succedere nulla di male perché sono chiusi in questa situazione per cercare qualcuno che sappia leggere cosa il padre ha scritto nel quaderno perché lui vuole sapere se il padre lo odiava cosa erano i ricordi del padre cosa scriveva con tanto fervore perché lui non era autorizzato neanche a guardarlo mentre lui scriveva e non sa leggere perché il padre non gli ha mai insegnato a leggere e questo è il viaggio questa è la trama e nel fumetto originale quando il protagonista guarda al quaderno essendo un fumetto e non sapendo di leggere quello che vediamo sul quaderno sono scarabocchi perché nel mezzo fumetto puoi fare così nel cinema come fai è un po diverso hanno trovato una buona soluzione secondo me per farlo e per rendere questa scena ma al di là di questo elemento ci sono molti altri che sono stati cambiati e sono stati cambiati ammorbidendo un po la trama rispetto al fumetto di gp l'ho trovato un po più arrotondato nei toni meno gp è molto più pungente nel senso che ti fa un po più male è un po c'è meno luce forse nel racconto di gp per quanto ci sia bellezza nelle immagini per quanto ci sia bellezza in certi concetti è un po più crudele il racconto di gp il film è meno crudele non che non ci siano momenti in cui capisci che questo mondo fa veramente schifo e cosa hanno fatto le persone per sopravvivere in questo mondo però ad esempio il personaggio di valerio mastandrea che nel fumetto è un personaggio importantissimo anche qui importantissimo credo gli sia è stata un'umanità diversa per portarlo a schermo e anche molti elementi del fumetto sono stati cambiati per poter rendere possibile questo adattamento che ripeto probabilmente era possibile non in toto riprodurre a 1 a 1 ma serviva un'ambizione diversa produttiva ecco nonostante quello che vedete non è disponibile in streaming io l'ho comprato in dvd e voi probabilmente lo dovrete compare in dvd se lo volete vedere è comunque un film che non è che ha solo una sua dignità è un ottimo film diciamo che è un ottimo film perché dire un buon film è un ottimo film l'ho gradito molto mi sono piaciute le musiche mi è piaciuto come cupellini inquadra questa storia che ricorda molto le ambizioni fumettistiche la fotografia è stupenda gli attori sono bravissimi paolo piero bon è bravissimo nel ruolo che deve ricoprire è veramente bravo il ragazzo protagonista leon della valle è bravissimo fare quello che deve fare è un mondo crudele è un mondo sporco è un mondo finito è un mondo pieno di gente che ha fatto delle cose orribili noi non sappiamo com'è finito il mondo non sappiamo com'è il mondo non ci perdiamo troppo nella descrizione di questo universo post apocalittico ci conto ci concentriamo sui personaggi su quello che questo ragazzino vuole scoprire come fa esattamente il fumetto però c'è un ha una sorta di sua morale ha una sorta di chiude un po il cerchio di quello che il film vuole fare c'è quello che gp voleva trasmettere un po si chiude anche se in modo diverso anche se attraverso degli eventi che vengono forse dire edulcorati è un po troppo forte però ripeto vengono un po ammorbiditi sono un po meno crudele rispetto all'originale nonostante l'originale abbia anche delle possibilità diverse perché è un fumetto io trovo questo la terra dei figli un'ottima tradizione da carta a schermo ed è una delle cose che dicevo in introduzione è rara da fare non tanto in italia ma in generale perché molto spesso si tende a perdere determinate sfumature questo film perde alcune sfumature ma che probabilmente in cinema sarebbero state alcune ridicole e alcune andavano convertite come sono state convertite e guadagna però altre cose che sono molto preziose per il cinema ho trovato ecco in questa conversione forse se proprio devo trovare una critica che gp parla di meno soprattutto nella parte finale è molto meno dialogato diciamo non dialogato ma usa molte meno parole per portare la sua morale alla fine gp è un po una cosa che lascia a te un po come i figli degli uomini un po non è tanto di parola come film è un film che passa più per l'immagine però ripeto aveva un'ambizione produttiva diversa quindi per questa ragione io ritengo le figli i figli degli uomini ciao la terra dei figli sono sempre figli nel mezzo un ottimo film mi dispiace che non abbia avuto una diffusione che meritava e dimostra che in italia si può fare questo genere che si può fare con poco perché sono poche location sfruttate molto bene dei set i pochi set che ci sono sono costruiti molto bene mi ha fatto piacere vedere valerio mastandrea in un ruolo di questo tipo come vedere valeria gollino in un ruolo di questo tipo come paolo pirobone in un ruolo di questo tipo bravissimo mi è piaciuto vedere una sequenza onirica trasposta dal fumetto e secondo me adattata in una maniera meravigliosa veramente complimenti a claudio cupellini per il lavoro svolto in generale un po di rammarico però per il dvd perché il dvd è sempre occasione per avere qualcosa in più e questo è veramente povero nel senso che sono stato un po guardato gli extra l'extra è durato due minuti scarsi ho detto ok finito sono stato un po triste da questo punto di vista però ve lo consiglio perché è comunque un ottimo film se non avete letto il fumetto vi trovate comunque di fronte a un bellissimo film post apocalittico e se vorrete leggere il fumetto ve lo consiglio perché è un'opera incredibile incredibile a livello come fumetto è stratosferico quindi la terra dei figli per me è promossissimo e probabilmente sarà uno dei film a livello di sci-fi fantastico slash fantastico dell'anno perché è veramente veramente bello